Il torneo di Via Reggio torna in Versiglia. Svolgere anche quest'anno questa celebre Kermesse calcistica giovanile internazionale alla Spezia è un controsenso imbarazzante, sia per gli operatori che per l'intero territorio toscano. Chiediamo alla FIGC di intervenire. È quanto chiedono i deputati della Lega Nord, Donatella, Legnaioli e Daniele Belotti. Una richiesta che arriva con la 72esima edizione del torneo ormai alle porte e con la città della Spezia che anche quest'anno sarà protagonista. La gara inaugurale sarà al picco, così come 12 mesi fa, quando lo stadio Spezzino ha ospitato anche la finale. Lo stadio dei Pini di Via Reggio è infatti ormai inagibile da tempo. Durante gli ultimi anni del torneo, i Luperi di Sarzana e il Raso di Levanto hanno ospitato alcune gare dalla Coppa Carnevale. Poi il rapporto col torneo si è rafforzato e anche gli stadi Pico e Ferdeghini sono diventati parte importante del torneo, anche grazie alla collaborazione dello Spezza Calcio. Oggi è la mossa dei deputati leghisti. Lo stadio dei Pini, affermano, è stato oggetto di una serie di lavori di recupero da parte del comune di Via Reggio, ma è evidentemente non sufficiente a scongiurare lo spostamento in Liguria del torneo, alla faccia delle ripetute rassicurazioni del sindaco. Nel frattempo, le gravi e pesanti ripercussioni sulle immagini di questo storico torneo, della stessa città di Via Reggio e del calcio italiano in generale sono tanto gravi quanto evidenti. Auspicchiamo soluzioni tempestive e concrete.